Prosegue la campagna vaccinazione nell'intero territorio dell'Asl Roma 4, dove ieri si è raggiunta quota 7.710. Meritardi nella consegna della Pfizer causano slittamenti anche a Civita Vecchia. Novità sulla vicenda della pescicoltura, l'istanza presentata dalla Civita Itica per individuare i due punti di ormeggio alternativi, secondo l'autorità portuale, non può trovare accoglimento. Per il quarto anno consecutivo, Civita Vecchia registra una diminuzione della popolazione residente tra le cause della situazione di depressione economica e la scarsa occupazione. Numeri da record per il sito telematico di Tele Civita Vecchia www.trcgiornale.it, mai avuti nei precedenti 16 anni di vita, il 2020 si chiude con 1.650.000 visitatori unici. Proposta al Comune da parte del neonato consorzio sport Civita Vecchia, l'idea è quella di una cittadella sport con campi all'aperto polifunzionali. Tra le idee l'area del Palagalli. Buonasera dalla TRC Giornale. Giornata negativa per Civita Vecchia sul fronte Covid-19. Il consueto report di ASL Roma 4 e Regione Lazio riporta che in città ci sono 10 nuovi contagiati. Notizie negative anche per quanto concerne i guariti che oggi non ci sono. Sono state riscontrate 138 negatività e 9 positività. Dei positivi riscontrati 6 sono residenti a Civita Vecchia, 2 a Tolfa e 1 fuori del distretto 1 dell'ASL Roma 4. Prosegue intanto la campagna vaccinazioni nell'intero territorio dell'ASL Roma 4. Ieri si è raggiunta quota 7.710. Proprio ieri il farmaco della Pfizer è stato somministrato complessivamente a 275 persone, 89 delle quali sono state vaccinate all'interno della struttura allestita all'ospedale San Paolo. Ma come procede la campagna vaccinazioni e come può essere influenzata dalle annunciate riduzioni delle forniture? Sentiamo un passaggio della trasmissione che andrà in onda stasera alle 21. Qual è ad oggi la situazione, come siamo con i vaccini e quali naturalmente le percentuali dei malati se ci sono decessi e ricoveri? È giusto e opportuno, come è stato già detto, che è importante aggiornarsi. Quindi cercheremo in pochi minuti, più o meno una trentina di minuti, di darvi gli ultimi aggiornamenti in tema di vaccini in primis e poi parliamo dei dati. Diciamo che, come ben sapete, tutta la campagna over 80 slitta di una settimana e questo slittamento è causato da problematiche molto sovranazionali perché dipendono da una mancata fornitura del vaccino Pfizer. Quindi tutte le regioni di conseguenza stanno reagendo, riorganizzando e rimodulando i propri programmi. Quindi cosa deve fare a chi è indirizzata questa campagna? A tutti coloro che hanno 80 anni. Quindi da 80 anni a salire tutti potranno essere vaccinati. Come si può prenotare? Ci si prenota online sul sito saluterazio.it e dall'8 febbraio noi inizieremo con le somministrazioni. Quindi prenotazione online dal 1 febbraio, non dal 25 come avevamo già detto. Ci si può prenotare quindi dal 1 all'8 e l'8 si inizierà. La campagna dura fino al 30 aprile. Era stata quantificata la durata di 6 settimane rispetto al numero degli over 80 che sono nel Lazio che è pari a 470.000 persone. E se noi abbiamo ingenti scorte di vaccino, noi inizieremo a vaccinare prima adesso i secondi di richiami e quindi chiudiamo il primo pacchetto di tutti i nostri cittadini, operatori sanitari, RSA, sociosanitari e tutte le categorie interessate. Successivamente entreremo in gioco con altre categorie. Man mano che avremo grandi disponibilità, vaccineremo tutti. Il Consorzio Medio Tirreno ha comunicato che è stata riscontrata una copiosa perdita sul tratto Toscana-Tarquinia in località Montebello-Tarquinia delle proprie condutture. Il danno sta determinando un'importante riduzione della fornitura idrica. Per tale motivo è stato necessario interrompere il flusso idrico per consentire al personale consortile di effettuare le necessarie ed urgenti attività di riparazione. Pertanto potranno verificarsi abbassamenti di pressione, carenze idriche alle utenze della zona nord della città. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde ACEA 800-130-335. Il sindaco Ernesto Tedesco, affiancato dalla dirigente del comune Gabriella Brullini, ha partecipato alla videoconferenza ad una riunione con i presidi degli istituti scolastici superiori nel territorio comunale. È stata l'occasione per fare il punto della situazione a due settimane dalla riapertura delle scuole. Da parte dei dirigenti scolastici è emersa una situazione ancora problematica legata alla doppia finestra d'ingresso negli istituti. Una situazione che non sarebbe sostenibile, soprattutto laddove gli orari dei trasporti non collimano con entrata ed uscita dalle scuole. Abbiamo preso atto di quanto ci è stato illustrato, commenta il sindaco tedesco. Il quadro che ci è stato prospettato, purtroppo, vede più nuovi problemi creati rispetto a quelli che si dovevano risolvere. Non mancheremo di farci portavoce presso la prefettura delle difficoltà che ci sono state evidenziate con la proposta di deroga per il nostro territorio ed in particolare di tornare a quel sistema che a settembre scorso aveva sostanzialmente funzionato. L'istanza presentata dalla Cività Ittica SRL a novembre scorso non può trovare accoglimento e quanto risponde l'autorità di sistema portuale ha la richiesta da parte della società per individuare due punti di ormeggio alternativi rispetto al progetto di pescicoltura, oggetto della conferenza dei servizi alla regione. Il Partito Democratico esulta, ma vediamo il servizio. L'istanza presentata da Cività Ittica SRL nel mese di novembre all'autorità portuale per individuare due eventuali punti di ormeggio alternativi rispetto al progetto di pescicoltura, oggetto di conferenza dei servizi in regione non può trovare accoglimento. E quanto risponde l'autorità di sistema portuale stessa alla società cooperativa attività rispetto alla quale l'assessorato all'ambiente del Comune di Cività Vecchia ha portato avanti una interlocuzione anche attraverso comunicazioni agli enti interessati sul tema nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale ad unanimità che ha impegnato l'amministrazione ad una ferma contrarietà al progetto. È stata esclusa, il commento del Vice Sindaco Manuel Magliani, ogni possibile alternativa al molo Enel previsto nel progetto originario rispetto al quale il Comune ha ribadito la necessità di rispettare le prescrizioni cristallizzate nell'atto concessorio rilasciato dalla Regione Lazio con relativi allegati. In disparte ogni valutazione in corso legata ad eventuali profili di decadenza rimane a nostro avviso determinante a questo punto la conclusione del procedimento per l'autorizzazione all'esercizio in capo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la cui istruttoria sembrerebbe aver dato esito negativo. Come del resto ha rilevato il senatore Bruno Astorre, autorevole esponente del PD, appare indispensabile che il Ministero concluda il procedimento e proprio il gruppo consigliare del Partito Democratico esprime la ferma volontà di opporsi all'utilizzo di aree, all'insediamento di attività, al consumo di suolo e superfici che pregiudichino le naturali vocazioni del nostro comprensorio a vantaggio di pochi a danno di molti. Qui non si tratta di entrare nel merito di quanto con un impianto in mare aperto possa essere diluito il carico dei nutrienti e dei cataboliti per molti anni con lo scarico delle acque reflue della pescicoltura a fianco di Torre Valdaliga Nord aveva inquinato e intossicato la frasca. Si tratta invece, affermano dal PD, di non sottrare ad uno specchio acque un tratto di mare unico, la fruibilità di un litorale tra gli ultimi rimasti ai civitavecchiesi. Crosignani si è dimenticato di specificare quanto è stata considerata attendibile nel procedimento la sua perizia sulla centrale di Vado Ligure. Il giudice ha stabilito che le ipotetiche vittime da lui indicate non esistono e la replica di Tirreno Power ha le parole del professor Paolo Crosignani, primario di epidemiologia ambientale e registro di tumori di Milano, oltre che membro del Comitato Scientifico di Lega Ambiente e dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE, ospite ieri mattina di TRC Mattina Live. Ascoltiamo su TRC Mattina Live con vivo stupore l'autocelebrazione che Paolo Crosignani fa del suo lavoro come consulente della Procura di Savona, affermano da Tirreno Power. Crosignani si è dimenticato di specificare quanto è stata considerata attendibile nel procedimento alla sua perizia. Il giudice ha stabilito che le ipotetiche vittime da lui indicate non esistono. Per questo motivo, nell'ottobre del 2018, il procedimento è stato definitivamente archiviato. Le teorie su Vado Ligure di Crosignani continuano, si sono dunque dimostrate del tutto sbagliate, secondo la verità giudiziaria. Il risultato delle affermazioni parziali e infondate di Crosignani è solo quello di procurare un ingiustificato allarme nei cittadini per ragioni che nella realtà dei fatti accertati si sono dimostrate squisitamente ideologiche. Anche i commercianti, quelli delle associazioni in luci spente, i commercianti uniti di Civitavecchia, chiedono di aderire al Comitato contro le centrali a gas. Le due associazioni si dicono favorevoli alla difesa del territorio, elemento imprescindibile per un vero sviluppo turistico, unica alternativa a quello energetico. Questo territorio deve ritornare ad una sua antica vocazione turistica. Fermano insieme al porto deve essere elemento di sviluppo alternativo e sostenibile. Una centrale a gas, un bosco di ciminiere, sarebbe un elemento che impedirebbe a Civitavecchia di svilupparsi turisticamente. Luci spente e i commercianti credono invece che il turismo, il terziario, possano essere l'elemento determinante per un rilancio di questa città ormai in degrado ambientale ed economico quasi irreversibile. Civitavecchia non cresce. Per il quarto anno consecutivo la città fa registrare una diminuzione della popolazione residente, a dimostrazione di un periodo di crisi di scarsa attrazione nei confronti dell'esterno. I dati forniti dagli uffici demografici di via Santarelli parlano anche di un importante aumento degli immigrati che hanno lasciato la città il servizio. Per il quarto anno consecutivo Civitavecchia registra una diminuzione della popolazione residente. Tra la fine del 2019 e la fine del 2020 la città ha infatti perso altri 68 residenti, passando dai 52.576 certificati a inizio anno ai 52.508 riscontrati il 31 dicembre. Lo scorso anno, commentando che per il terzo anno consecutivo Civitavecchia aveva evidenziato un saldo negativo a livello di popolazione, avevamo parlato di declino apparentemente inesorabile. A distanza di 12 mesi, purtroppo, non possiamo che confermare il convincimento. Vale la pena di ricordare che la costante diminuzione dei residenti sta a testimoniare che la città non attrae, che non offre all'esterno l'immagine di un centro in grado di fornire lavoro e benessere. In base ai dati che gli uffici demografici di Piazzale Santarelli forniscono gentilmente, viene confermato che nell'arco di soli 8 anni Civitavecchia ha perso quasi 1.500 residenti, oltre il 2,5% dell'intera popolazione. È opportuno ricordare ancora una volta che, secondo i demografi e i sociologi, la diminuzione della popolazione residente è quasi sempre diretta conseguenza di una situazione di depressione economica. È come non parlare di depressione economica in una città che continua ad avere un esercito di disoccupati, assolutamente paragonabile a quello delle realtà meridionali con maggiori problemi. Un'ulteriore conferma di una situazione di oggettivo scarso appeal di Civitavecchia arriva dai dati riguardanti l'immigrazione e l'emigrazione. La popolazione composta dagli immigrati è passata dai 1.065 del 2019 ai 759 del 2020. Diminuiti anche gli emigrati, ovvero coloro che se ne sono andati dalla città, passati dai 977 del 2019 ai 776 del 2020. Il saldo è comunque negativo nella misura di 17 unità. Per il resto la fotografia demografica della città non appare diversa da quella nazionale. Anche a Civitavecchia il 2020 è stato l'ennesimo anno nero sul fronte delle nascite, con il record negativo di soli 313 neonati, 20 in meno rispetto all'anno precedente. E dei decessi parleremo a parte. Si va componendo il comitato di gestione dell'autorità portuale. Ieri pomeriggio la Regione Lazio ha infatti ufficializzato la conferma dell'architetto Roberto Fiorelli in seno a quello che può essere considerato il consiglio di amministrazione dell'ente. Fiorelli era già membro del comitato portuale durante la gestione di Maio. Adesso per la composizione definitiva manca solamente la nomina del rappresentante della città metropolitana. Anche in questo caso tutto lascia ritenere che si andrà alla conferma del membro uscente Matteo Africano, anche se bisognerà attendere la metà di febbraio, termine ultimo nel quale potranno essere presentate le manifestazioni di interesse all'istituzione guidata da Virginia Raggi. Se non ci saranno sorprese dunque oltre al presidente Musolino ci sarà un solo volto nuovo nel comitato rispetto all'era di Di Maio e sarà quello dell'architetto Emiliano Scotti, designato dal comune di Civitavecchia. La riconferma di Fiorelli da parte di Zingaretti & Co. era data per scontata, nonostante i tentativi condotti in particolare dalla compagnia portuale di far nominare un suo rappresentante. Nella giornata di ieri il Partito Democratico di Civitavecchia ha nominato Paolo Rita Stella come sua presidente ed Alice Natalini segretaria amministrativa, oltre a convergere su Dario Bertolo quale rappresentante del circolo in segreteria provinciale, indicazione che dovrà essere in seguito ratificata dal segretario provinciale Rocco Maugliani. La votazione si è svolta sulla piattaforma Zoom, dove la direzione cittadina dei DEM si è espressa all'unanimità. È stato un anno straordinario il 2020 per TRC Giornale.it, il quotidiano telematico di Tele Civitavecchia. Il sito operativo dal 2004 ha avuto lo scorso anno una clamorosa impennata di lettori, registrando un incremento del 45% e arrivando ad 1 milione e 685 visitatori unici, con una media di oltre 4.600 lettori al giorno. Vediamo. Una crescita impetuosa con numeri impressionanti mai avuti nei precedenti 16 anni di vita. Il 2020 per il quotidiano telematico www.trcgiornale.it è stato veramente clamoroso. Un boom assoluto di contatti, in gran parte spinto dalla grande curiosità del pubblico rispetto alla questione Covid, che ormai da un anno è diventata purtroppo una componente fondamentale della nostra esistenza, ma a confermare il legame con il pubblico sviluppato, inoltre tre illustri di informazione puntuale e autorevole. Il 2020 si è chiuso per TRC Giornale.it con 1.685.000 visitatori unici, con una media di visitatori giornalieri superiore alle 4.600 unità, un numero altissimo, visto che comprende anche i cosiddetti giorni morti, come i festivi e i prefestivi. Ci troviamo di fronte a numeri record, soprattutto se rapportati con quelli che, purtroppo, contraddistinguono attualmente la carta stampata, che a livello locale conta sulla vendita di poche centinaia di quotidiani al giorno. Rispetto all'anno precedente, TRC Giornale.it ha avuto un incremento di oltre 500.000 visitatori unici, ovvero di oltre 1.000 lettori al giorno. Il 2019 si era chiuso, infatti, con 1.162.000 visitatori. La crescita è stata addirittura del 45%, 5 volte maggiore rispetto a quella che si era registrata, andando a raffrontare il 2019 con il 2018. Ovviamente gli articoli maggiormente letti sono stati quelli che hanno avuto in qualche modo a che fare col coronavirus, ma tantissimi sono stati anche i lettori, che si sono soffermati sulle notizie di cronaca e su quelle specifiche del nostro territorio, che avevano quindi come argomento il porto e gli insediamenti energetici. Un simbolico premio per la nostra redazione, che quotidianamente fornisce un servizio costante ai suoi lettori attraverso un continuo aggiornamento delle notizie. A livello di curiosità, la giornata che ha fatto registrare il maggior numero di lettori, con ben 29.000 visitatori unici, è stata quella del 28 marzo, in piena prima ondata Covid, seguita a poca distanza da quella del 2 aprile, con 25.500 visitatori unici. Il 60% degli articoli di trcgiornale.it è stato letto in Italia e il resto in tutto il mondo. All'estero, i maggiori lettori del nostro quotidiano telematico si trovano negli Stati Uniti, a seguire la Francia, la Norvegia, la Russia, l'India, la Gran Bretagna e la Germania. Domani, giorno della memoria, una delegazione della sezione di Civitavecchia dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, renderà omaggio alle vittime dello sterminio, deponendo una corona di fiori al Parco della Resistenza alle ore 10.30. Alle 11.30 parteciperà alle celebrazioni istituzionali al cimitero di Via Tarquinia. E sono aperte le iscrizioni per il secondo concorso letterario Un mare di libri. Nell'ambito dell'International Tour Film Festival, questa edizione diventa regionale e prevede due sezioni che saranno giudicate da due diverse giurie, romanzi a tema storico e saggi su argomenti cinematografici. Le iscrizioni sono gratuite e la scadenza per l'invio delle opere è fissata per il prossimo 30 di giugno. E si torna a parlare di una cittadella dello Sport Civitavecchia. L'idea è quella del Consorzio Sport Civitavecchia che chiede un incontro al Comune per parlare del progetto che hanno in mente. Tra le zone in cui potrebbe essere realizzata si parla di quella del Palagalli, soprattutto se non dovesse rieprire a breve il servizio. Una cittadella dello Sport al posto del Palagalli o comunque in una zona di Civitavecchia? L'idea ancora alle fasi embrionali è del Consorzio Sport Civitavecchia. La neonata associazione, formata da Nautilus, SGIN, CRC, CV Volley, Pirgi Basket e Demas Italia, lancia la proposta che sarà con ogni probabilità sviluppata nei prossimi giorni tramite dei colloqui con il Comune. L'idea del Consorzio, che come detto al suo interno sei società importanti con più di mille atleti, sarebbe quella di trovare una zona che potrebbe appunto essere quella dello Stadio del Nuoto in cui poter costruire un impianto polifunzionale con investimenti in parte privati e in parte comunali dove tante società potrebbero praticare il loro sport. Noi, spiegano dal Consorzio Sport Civitavecchia, non vogliamo prendere il posto di altre società ma avere lo spazio che ci spetta. A Civitavecchia la situazione degli impianti sportivi è drammatica e ci domandiamo se c'è la possibilità di condividere il nostro progetto. In città ci sono tante zone adatte a quello che abbiamo in mente. Abbiamo già parlato e parleremo ancora con il Comune per far sì che la nostra idea diventi con il tempo realtà. Nello specifico si parla inizialmente di alcuni campi all'aperto da usare nel periodo estivo per poi pensare anche a delle strutture coperte che possono andar bene per diversi sport. Siamo concentrati sulla riapertura del Palagalli, commenta il delegato allo sport Matteo Iacomelli, che al momento è la nostra priorità. Non escludo che nei prossimi giorni possa incontrare il Consorzio per confrontarci e capire quali sono le idee che hanno in mente. Il progetto c'è ed è interessante, adesso bisogna capire se potrà diventare realtà o resterà una delle tante idee che tali sono rimaste negli ultimi anni. In un momento in cui appare difficile la ripartenza per il calcio 5 locale a causa delle fortissime limitazioni per il Covid-19 è arrivata una bella notizia per il movimento locale e soprattutto per la sezione AIA di Civitavecchia. L'arbitro Vincenzo Sgueglia è stato designato per dirigere la gara del campionato di Serie A trasmessa in diretta su RaiSport. Il fischietto della sezione del riconfermato presidente Gianluca Ventolini è stato ad est per l'incontro tra i padroni di casa del Petrarca Padova e il CDM Genova. A vincere sono stati i Veneti per 4-3. Sgueglia dirige da qualche anno nella massima serie e non si tratta della sua prima volta in onda sull'emittente di Stato. Passiamo ad una segnalazione che ci arriva da Piazza Verdi. L'area verde è versa in condizioni di abbandono con erba alta e piante che non sono state potate. Inoltre c'è sporcizia con buste lasciate a terra intorno ad un secchione inesistente e con il vento che porta a spasso i rifiuti come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. Ed era questa l'ultima notizia. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Youtube oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.